Bene, ciao ragazzi, in questo nuovissimo video, come avete letto dal titolo e dalla copertina, oggi andremo su CoinGecko, questo perché oggi, incredibilmente, ho raggiunto una quantità tale di monetine, tra virgolette, di CoinGecko, in questo caso caramelle, per esempio sul CoinMarketCap ci sono le gemme, che ti danno l'opportunità di poterti scaricare, appunto, acquisire il corso di DeFi di CoinGecko, adesso andiamo sul computer a vedere, però, prima di partire e andare a vedere come si riscatta e che cosa contiene all'interno, lasciami un bellissimo mi piace, mi fai sempre contento, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Come possiamo vedere, siamo appunto sulla schermata di CoinGecko, questa è la classica schermata eccetera, che non ci interessa a questo istante, se noi andiamo a vedere qua sopra, su questa cosa di caramelle, possiamo vedere che ogni giorno, se noi entriamo su CoinGecko ogni giorno, e penso che ognuno di noi ci entra, dobbiamo creare un profilo, ok? E su CoinGecko, come su CoinMarketCap, possiamo anche monitorare le nostre crypto eccetera, come se fosse appunto un manager di portafoglio, tra virgolette. Detto ciò, ogni giorno possiamo andare qua a ricevere delle ricompense e oggi, incredibilmente, ho raggiunto 560 caramelle candies e che succede? Se noi andiamo su rewards, c'è tutto quello che possiamo fare con queste caramelle, ok? E come possiamo vedere c'è diversa roba. Questi sono servizi in affiliazione con CoinGecko, dove hai degli sconti eccetera eccetera. Quello che adesso noi andremo a fare, per esempio, con 560 caramelle, che è quello che noi abbiamo, possiamo prendere o 10% di sconto su questa roba, o ad esempio uno tra questi due, Auto DeFi, come se fosse un corso di DeFi a 560 tutte e due e poi c'è il bundle a 980, quindi uno può dire aspetto, però quello dei beginner sinceramente non mi interessa. Andiamo a vedere cosa ci dà per avanzato, ok? Quindi andiamo a fare redeem, vediamo un po' come funziona. Ovviamente io ho speso 0€ per queste candele, quindi queste caramelle, semplicemente ogni giorno con il tuo account, che è gratuito, di CoinGecko, vai e vai sempre qua sopra, in alto, a fare il redeem delle tue caramelline. Andiamo a vederlo. Usiamo. Usiamo adesso. Dobbiamo copiarci questo coso, il codice. Andiamo qua, facciamo compra adesso. Dobbiamo mettere questo codice sconto. Applica. E vediamo che adesso con questo codice sconto è 0 dollari, quindi dovremo mettere le nostre email e farcelo praticamente arrivare, immagino. Vediamo un po', eh? Ragazzi, adesso metto pausa al video. Bene, come possiamo vedere, adesso che ha completato il... abbiamo l'acquisto e posso dire che tra tutte le informazioni potete anche dare informazioni completamente a caso. Infatti vi chiede pure la casa, cose. Io ovviamente ho messo che abito tutt'altra parte nel mondo. Non fa niente, tanto non ve lo deve far arrivare a casa. È un file da scaricare. Come vedete qua è un file zip. Adesso vediamo un po', adesso vediamo un po' il contenuto. Eccoci qua all'interno del PDF. Come possiamo vedere è un file zip dove all'interno c'è un PDF e possiamo anche abilitare la modifica, ma non ci interessa in questo istante. Allora, vediamo che è formato da, ragazzi, 276 pagine, quindi è veramente stracolmo di roba e andiamo a vedere, andiamo a vedere più che altro che cosa c'è all'interno. Ok? C'è veramente tanta roba, porca miseria. Allora, abbiamo tutti i vari ecosistemi, abbiamo le gas fee, rise of gas fee, yield farming, liquidity mining, airdrop, eccetera, eccetera. Associated risks, abbiamo le tipologie di decentralized exchanges. È da capire pure quando è stato creato, più che altro perché questo è un mondo che corre alla velocità della luce, è stato fatto il primo maggio del 2021. Eh, ragazzi, ma dal primo maggio sono cambiate tante cose, ragazzi, 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 quindi fare un libro sulla DeFi non ha senso, dal momento che due mesi dopo è completamente diversa, cioè nascono cose, falliscono cose, cioè uniswap, balancer, curve, cioè alcune cose ci stanno ancora ovviamente, però ci sta così tanto altro adesso. Però, vabbè, comunque può essere estremamente utile comunque soprattutto agli inizi. I DEX aggregator, quindi abbiamo One Inch, ad esempio, Paraswap. Poi abbiamo i lending e borrowing, quindi abbiamo MakerDAO, Compound, Aave, Cream Finance, RIP. Abbiamo, eh, beh, cosa vuol dire TVL? Ma comunque Lender, Borrowers, anche qua i rischi associati. Comunque è estremamente interessante. Tether, USDT, DAI, quindi abbiamo centralized stable coin, decentralized stable coin. Vediamo se abbiamo gli algoritmici. What are algorithmic stable coins and stable assets? Quindi pure gli algoritmici ci sono. Non so se parlano di Anchor barra UST di Terra. Però, vediamo un po', vediamo un po'. Poi abbiamo i derivati, quindi i perpetual nella DeFi, con DYDX. Poi abbiamo le insurance, quindi le assicurazioni, come Nexus Mutual, vediamo se ce lo dice. Nexus Mutual, eccolo qua, infatti. Vedi, 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 c'è tanta roba sicuramente, parte 3. Poi abbiamo Yield Aggregator, quindi Yield Finance, esattamente. No, vabbè, ma è sicuramente molto interessante. Poi, soprattutto, prima, magari a maggio, a maggio-giugno era, era sicuramente all'altezza. Metamask, Attack, ah, quindi gli exploit, Iraq Pool. No, allora, per chi sta veramente all'inizio, inizio, inizio, io ho anche... non so se è legale poterlo mettere, quindi mi sa che è meglio di no. Perché sennò avrei potuto pensare di, non so, o fare un contest o metterlo definitivamente, tipo, sulla descrizione. Però penso sia abbastanza illegale, quindi non lo faccio. Però, ragazzi, è completamente gratuito. Cioè, avete una cosa dove vi dice tutto? Quindi, giusto per andare a vedere un po' come è fatto... vabbè, ci sono dei grafici, giustamente. Andiamo a mettere un po' più, un po' più grande, ne so, un 150%. E a parte che possiamo anche stamparlo, cosa che non farò. Qua abbiamo Oracle, Decentralized Exchanges, questo è il santo anche se, ripeto, è stato fatto a maggio. Quindi abbiamo anche dei grafici, giustamente. È in inglese, ok? Questo va detto, che è in inglese. Quindi, yield farming is perhaps one of the most innovative features of DeFi. Yield farming, sicuramente, ok? È riferita all'attività di allocazione del capitale nei protocolli DeFi per, appunto, guadagnare interessi. La maggior parte dei protocolli DeFi sono, appunto, finanza peer-to-peer, no? Da persona a persona. Applicazioni finanziarie da persona a persona, dove il capitale allocato è usato per provvedere servizi ai, appunto, ai clienti finali, ai user, proprio alle persone finali, insomma. DeFi, quindi le commissioni che caricate, appunto, alle spese degli utenti, sono condivise tra il capitale di coloro che provvedono ai protocolli, insomma. Quindi, per esempio, quando c'è un liquidity pool dove le persone vanno a, per esempio, su appare, in questo caso, chi fa liquidity provider, quindi chi immette la liquidità al decentralized exchange, all'exchange decentralizzato, prende quelle fee, quelle fee del DEX, è condivisa, ok? Come ho spiegato in questo video dei termini cripto difficili, le commissioni sono condivise ai liquidity provider, cioè a coloro che provvedono alla liquidità del DEX. E quindi qua abbiamo exchanges, lending, insurance, options e synthetic asset, come per esempio synthetic e mirror. Abbiamo liquidity mining. Veramente, veramente interessante, veramente, veramente molto interessante. Abbiamo anche qua, parliamo di airdrop, che sono essenzialmente una distribuzione gratuita di token. I progetti conducono airdrop come parte della loro strategia di marketing, per generare attenzione e hype attorno appunto il loro lancio del token. Qui abbiamo, per esempio, degli airdrop molto famosi in cui Uniswap, OneInch e Pull Pull Together, dove appunto Uniswap, il data dell'airdrop è stato appunto il 16 settembre del 2020, con un inizio del prezzo di 3,44 dollari. E il primo aprile, ragazzi, del 2021, questo airdrop, cioè questa moneta, è andata a valere 28 dollari, con un ritorno, ragazzi, dobbiamo qua sottolinearlo, del 734%, che sono monete che sono andate in airdrop, quindi in maniera completamente gratuita. Non male, non male, ragazzi, non male. Poi ci sono le IDO, quindi Initial Dex Offering, le IDO, che sono appunto l'evoluzione sia delle ICO e sia delle IEO, ok? Initial Bounding Curve Offering, poi qua ne abbiamo ancora altre, quindi Liquidity Bootstrapping Pool, Initial Farm Offering, poi vediamo un po', abbiamo ah, un Hield Farming Step by Step Guide, guida, quindi come possiamo vedere ci dà proprio investi, pre-immetti appunto la liquidità, conferma con Metamask, aggiunge appunto il tuo token LP qua nella farm e inizia a farmare come un vero coltivatore di patate. Quindi no, è sicuramente fatto abbastanza bene, ripeto che in inglese, poi guardate quanto cazzo è lungo, cioè è veramente estremamente grande qua, vi fa studiare pure un po', dai, USDT, vediamo che dicono su USDT. USDT, previously known, prima conosciuta come Real Coin, è una stablecoin centralizzata che prima era, inizialmente era tradata su Bitfinex nel 2015. Bing, essendo la prima stablecoin nel mercato, ha un grande vantaggio appunto, il fatto di essere prima appunto ti dà un gran vantaggio e ha mantenuto appunto in modo importante appunto la sua posizione come leader del mercato delle stablecoin. Così che nell'aprile del 2021 Tether ha una market cap di 40 miliardi. Vogliamo vedere adesso? Adesso la market cap di Tether stiamo sui 80 miliardi, quindi ragazzi in pochi mesi, da aprile, da pochi mesi ha raddoppiato la market cap. Tutti a comprare Tether. Tether mantiene il suo 1$ o PEG attraverso una collateralizzazione del sistema, holdendo cash, tra molte virgolette, come riserva collaterale, in equal amount of USDT. Ok, in teoria questo è un forte metodo di assicurare USDT che mantiene il PEG. Dopotutto è abbastanza simile, tra virgolette, è un reindirezzamento, quello che è al gold standard, dove il dollaro era usato ad essere beccato, becked, dal dollaro, dall'oro, scusate, cosa che adesso non è più così. Vabbè, questo era ragazzi, se andiamo a vedere un po' quello che uno può comprare con... adesso ritorniamo purtroppo a 0 candele, anzi candele, Candice dico candele, a 0 caramelle, volendo uno può aspettare di prendersi quello totale a 980, se no auto bitcoin book ci sta, ok? E poi è da capire quello che scriveranno qua, sono molto interessanti di vedere quello che diranno loro, poi se no avete appunto degli sconti, eccetera. Se noi invece andiamo su CoinMarketCap, i reward su CoinMarketCap sono questi, sono degli NFT soprattutto, ma nulla di interessante effettivamente. Avatar CZ, Elon Musk, via un link. La Lambo, non Moon, non Lambo. Vabbè, sono queste cazzatine, ok? Non c'è nulla di utile magari come a CoinGecko, CoinGecko almeno ha delle informazioni che è sicuramente meglio della testa di Elon Musk o CZ, ok? Niente, questo vi ho fatto vedere questa cosa abbastanza curiosa, non che sia chissà che, però sappiatelo che comunque se volete avere una guida gratuita, in inglese purtroppo, di DeFi o come avete visto c'è anche di Bitcoin, basta farsi un account di CoinGecko e dopo qualche giorno avere un minimo di pazienza, collezionare giorno per giorno queste cavolo di caramelle e poter riscattare gratuitamente il libro, ad esempio come PDF, quindi abbastanza comodo, poi se uno vuole può stamparselo, eccetera. Ok, no niente, ho voluto far vedere questa cosa curiosa perché ho visto che avevo raggiunto questi 560 monete ed ero andato a vedere nei reward cosa potevo fare e mi ha sembrato carino poter condividere con voi appunto che esiste questa cosa, insomma, che non sapevo se non andavo a vedere nelle reward, quindi niente, spero che possa essere stato utile, in già caso lasciami un bellissimo like, ok? Se anche tu inizierai a farmare caramelle in in CoinGecko, invece di andare a farmare veri soldi in DeFi, sto scherzando ovviamente, e vabbè, delle informazioni sono sempre comode, quando poi sono gratis perché rifiutarle, quindi lasciami un bellissimo like, iscriviti al canale e clicca su la campanellina, ok? E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!